Mille tessere sottoscritte da ancora un mese per fidelizzarsi alla prossima stagione. La campagna abbonamenti dell'US Avellino continua a buoni ritmi, favorita ovviamente dalla voglia spasmodica dei tifosi di chiudere in un cassetto lo scorso anno e ricominciare da zero con un ritrovato entusiasmo. Inutile nascondere che i colpi di mercato, ben assestati e di una certa importanza, hanno favorito la campagna. La vulgata, secondo la quale l'Avellino è la squadra che si sta muovendo meglio sul mercato, è reale ma anche profondamente entusiasmante. Come dimostra la voglia dei sostenitori di stare vicino alla squadra e vivere finalmente una stagione da protagonisti. Prezzi agevolati, promozioni per le famiglie, per gli under e per le donne che favoriranno certamente l'afflusso allo stadio. Da ricordare che quest'anno la campagna abbonamenti chiuderà il 12 di agosto. Fino a quella data ci sarà tempo per sottoscrivere i tagliandi ed aggiudicarsi il posto fisso per tutto l'anno. La criticità resterà uno stadio poco accogliente con la speranza che almeno la questione dei bar venga risolta prima dell'inizio del campionato quando il caldo nonostante il mese di settembre resterà comunque importante.